You know you make me wanna Il collegio cambia veste e riparte con tante novità Il corpo docente è il preside del collegio Nel 1958, il nostro paese è in via di trasformazione Il mondo richiede tutta una serie di figure professionali Nuove materie insegnanti Io sono il vostro professore di disegno, il professor Guido Airoli Sarò il vostro insegnante di canto corale Si aprono le porte del collegio 1958 Siete dei privilegiati Lui è privilegiato ad avere noi come alunni Il collegio, prossimamente Rai2